C'è un errore molto comune che viene commesso, che è quello di inserire prima il filtro in caldaia e poi di riempire il caffè. Io per praticità e per comodità preferisco riempire il filtro fuori, prima di inserirlo quindi nella caldaia. Un altro errore comunissimo che viene fatto durante la preparazione della moca è quello di utilizzare troppo caffè, quindi creando la famosissima montagnetta. Questo è un errore perché poi andando a chiuderla andremo a pressare la nostra pastiglia di caffè occludendo il passaggio dell'acqua e quindi oltre a impiegarci molto più tempo andremo a estrarre una parte estremamente amara. Un altro piccolo consiglio che può essere interessante è quello di assestare un po' il caffè. In questa maniera lui si va a occupare lo spazio corretto e a liberare ulteriore spazio, quindi possiamo sfruttare tutta la capacità del filtro. Ok, in questa maniera si livella.